con il centrocampista del Pescara, anche Goliador. Bravo Marco. Grazie Enrico e buonasera a tutti. Una partita. Ma come ho già detto a fine gara, secondo me è stata una grande partita, sia da parte nostra che comunque da parte loro, abbiamo giocato a viso aperto, secondo me soprattutto il primo tempo dove c'è stato veramente un ritmo alto della gara, nel secondo tempo siamo calati un pochettino tutte e due le squadre, perché comunque abbiamo giocato tre giorni fa, eravamo un pochino stanchi, però abbiamo fatto per quanto riguarda noi una buona prestazione, secondo me il secondo tempo all'inizio potevamo sfruttare meglio qualche occasione che abbiamo creato, però comunque va bene così prendere il punto e continuiamo questa serie positiva di risultati. Prima di chiederti una notazione tattica e il gol, vorrevo capire un po', visto che tu sei stata vittima di questo direttore di gara dal cartellino facile che ti costerà anche la partita con la Carrarese, insomma non mi siete sembrati così cattivi in campo per avere tutti quei cartellini? Ma sicuramente per quanto riguarda il mio giallo diciamo che poteva darlo e non poteva darlo, poi sono decisioni che prende l'arbitro in base al suo modo di arbitrare, per quanto riguarda le altre decisioni non so, poi comunque durante la gara è anche difficile capire noi giocatori se può esserci o non può esserci un fallo, una munizione o un'espulsione, però diciamo che ogni arbitro è un pochino diverso e arbitra nella maniera propria, certe volte troviamo degli arbitri che lasciano più giocare, certe volte magari degli arbitri che fischiano più facilmente. Il tuo gol, racconta, fai il telecronista. Ma sono innanzitutto contento perché lo volevo tanto e credo che oggi si sia visto dall'inizio, ci ho provato due volte prima che poi la terza volta è andata bene, sono contento perché comunque diciamo ho avuto il coraggio e la personalità di calciare in porta e come tutte le cose quando ci provi una, due, tre volte magari è più facile che ti va a dare a bene rispetto a che se non ci provi mai. L'ultima da parte mia prima dello studio con una notazione tattica, il segnale di Auteri nel secondo tempo, dentro Memu ma da trequartista, dietro la punta. Significa che al fianco di Pompetti deve giocare un giocatore con le caratteristiche di Tiambo? Hai fatto una grande partita oggi, eh? Ma innanzitutto grazie per quanto riguarda poi l'entrata di Memu, sicuramente anche in base a come andava la partita, sicuramente loro avevano il play che giocava scoperto e quindi il mister ha ritenuto giusto mettere uno lì che poteva dargli un po' di fastidio. In questo caso Memu, siamo tre giocatori quest'oggi al centrocampo validi perché secondo me sia io che Tiambo che Memu sappiamo giocare a calcio e il mister poi fa lui le scelte, noi dobbiamo semplicemente rispettare e dare il 100% ogni allenamento. Domanda da studio per Pompetti che vi ascolta. Studio. Sì, intanto per quanto riguarda la notazione tattica è vero, Memu si è alzato, no Fabio è andato in pressione su Gasperi, il regista, però poi ha cambiato sistema di gioco con la Vitto, è passato la difesa a tre e quindi Memu si ha fatto la mezzala. Quindi è stato alla fine un 4-3-3, complimenti a Marco, prestazione secondo me è stato il migliore del Pescara, ha preso in mano il centrocampo, ha dittato i tempi, grande personalità da parte tua Marco, non è piageria, ma insomma è quello che abbiamo visto. La domanda invece è di Fabio. Ciao Marco, sì anch'io mi accodo ai complimenti di Massimo, chiaramente perché stai facendo bene, al di là di oggi hai fatto una crescita esponenziale notevole dal mio punto di vista, sotto il profilo dell'intensità e della personalità, poi sul fatto che sai giocare lo sappiamo bene. Io ho la domanda, più che sulla partita, ora che è finito il giorno d'andata, vorrei chiederti, sai da giocatore quando finisci un girone, poi tu devi avere sicuramente una percezione di dire, come mai Modena e Reggiana sono così avanti, sono così più forti di noi come organico, perché poi tu dal campo, avendosi giocato, che percezione hai? Secondo te ci sono questi punti di distacco rispetto a loro? Innanzitutto grazie a tutte e due per i complimenti, che mi fanno sicuramente piacere. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, se adesso la Reggiana e il Modena sono lì sopra con quei punti di distacco rispetto a noi, è perché sicuramente se lo sono meritato, e noi abbiamo fatto qualcosa che non andava, abbiamo sbagliato qualcosa. Secondo me tutti quei punti che ci sono tra noi e loro non sono la verità, perché comunque anche quando abbiamo giocato non si è vista questo distacco, questa forza in più rispetto a loro così eclatante. Noi siamo giocati sia con il Modena che con la Reggiana, entrambe le gare ha visto se non è apertissimo e meritavamo in entrambe le partite qualcosina di più. Poi comunque il calcio lo sappiamo che dipende tutto dai risultati, però comunque adesso sappiamo che la situazione è questa e nel girone di ritorno sin da subito cercheremo di rosicchiare più punti possibili alle squadre che sono davanti a noi e poi diciamo man mano vedremo quello che stiamo facendo.